E salve a tutti ragazzi qui come sempre il vostro arabe e volete tornare indietro nel tempo sigla Ed eccoci qua ragazzi con un'altra action figure per la linea toy beats dedicata al signore degli anelli Ed ecco qui che abbiamo tra noi niente o po' di meno che Gandalf il grigio in una versione molto particolare che adesso andremo a vedere nel dettaglio Vi racconterò tutti i particolari, questo qui è un video eccezionale fatto di sabato per recuperare il video di ieri che non c'è stato per un imprevisto Allora ragazzi prima di tutto vi devo far vedere la confezione di questa figure che purtroppo non ho e non è una confezione normale Ma bensì si tratta di questo box set ragazzi dell'intera compagnia dell'anello Questo box set è veramente spettacolare, lo vorrei tantissimo ma è uno dei più costosi e più rari da trovare Come vedete all'interno c'è questo Gandalf che ha gli abiti però in tessuto al contrario della versione normale di questo Gandalf Che si vende singolarmente che ha questo panno diciamo in plastica ed è veramente brutto secondo me In tessuto rende molto meglio perché immaginatevi voi un panno del genere tutto in plastica che diciamo non è molto bello da vedere Devo dire soprattutto non è molto mobile Ma la particolarità di questa figure non finisce assolutamente qui perché c'è una chicca nascosta Comunque andiamo prima di tutto a vedere l'accessorio da cui è accompagnato ovvero la sua spada Se non sbaglio si chiama Glamdrill Eccola qui ragazzi veramente fantastica molto ben fatta Il manico risulta un po' più corto forse del normale Ma è fatta apposta per essere infilata nella mano che non si apre ma ha il pugno chiuso in questo modo Quindi per questo è un pochino più stretto Per quanto riguarda la nostra figure ragazzi eccola qui guardate che spettacolo Ha questo bastone che si è rimovibile però guardate cosa succede se lo rimuovo Eccoci qua facciamo con cautela perché non voglio rompere assolutamente nulla ragazzi Perché qui ragazzi c'è un piccolo circuito a cui si collega diciamo una piccola spina a cui si collega il bastone Perché ragazzi si tratta di un bastone luminoso quindi la mano senza bastone è così un po' brutta da vedere Dicevo si tratta di un bastone luminoso appunto Fighissimo il fatto che sia anche rimovibile Avrebbero potuto semplicemente farlo attaccato alla mano per via del circuito Invece no hanno trovato anche il modo di poterlo rimuovere E ragazzi udite udite nonostante questa figure abbia praticamente ormai più di 15 anni Il circuito funziona ancora e il bastone si illuminerà Questo ve lo farò vedere tra un po' Comunque andiamo a vedere la figure più nel dettaglio Questo qui è il viso con cappello come vedete rimovibile Figata guardate qua che spettacolo il painting anche sul cappello Ecco qui il viso ragazzi e beh devo dire che somiglia tantissimo a quello dell'attore Soprattutto visto da questo profilo particolare Per quanto riguarda la barba ragazzi può sembrare che sia scolorita Invece no è proprio l'effetto di painting che appunto alterna questo bianco al grigio più scuro Guardate che figata il viso veramente ben fatto in tutto e per tutte le rughe Veramente spettacolare Qui vediamo appunto il panno tutto in plastica morbida che volendo si può rimuovere E andiamolo comunque a rimuovere comunque anche il cappuccio Vedete sulla parte posteriore che volendo può essere indossato dal nostro Gandalf Non è proprio il massimo però si può fare Questa cosa ovviamente non si può fare con diciamo il panno in plastica naturalmente Andiamolo a rimuovere così vediamo anche i dettagli della figure Ecco qua ha la sua tunica grigia Anche questa molto ben realizzata Comunque anche qui non mancano le sfumature di colore nonostante sia coperta dal panno Vediamo la cintura vediamo che ha la sua borsetta qui fantastica in plastica morbida Vediamo la gonna tutta in plastica morbida All'interno i pantaloni anche questi sfumati Non mancano i dettagli neanche nelle parti interne Poi vediamo gli stivali anche questi con sfumature La particolarità è che non ha vedete articolazioni qui ai piedi Perché diciamo deve mantenere una posa fissa Per via della gimmick che si attiva tramite questa levetta che c'è sul retro Qui vediamo lo sportellino appunto per inserire le pile che faranno illuminare il bastone Vediamo velocemente le articolazioni poi vedremo un piccolo paragone con un altro Gandalf Un ulteriore kick che poi naturalmente vi farò vedere come si illumina il bastone La testa può muoversi leggermente in avanti e indietro in questo modo Può ovviamente ruotare lateralmente però è ostacolata un po' dalla barba naturalmente Il braccio può aprirsi a più di 90 gradi senza alcun tipo di problema può ruotare a 360 gradi Poi c'è l'articolazione qui al gomito che può muoversi fino qui e c'è la rotazione al polso Questo braccio è un po' più limitato per via della gimmick ma volendo fa comunque gli stessi movimenti Solo che muovendolo scatta quindi è meglio non farlo per via diciamo dell'anzianità di questa figure C'è la rotazione qui alla vita Per quanto riguarda le gambe non si muovono all'esterno ma vanno semplicemente in avanti Comunque con un buon raggio All'indietro invece sono totalmente bloccate dallo scalto e poi hanno il piegamento qui al ginocchio Il paragone che volevo fare ragazzi era con quest'altro Gandalf che io ho chiuso in confezione E non credo sinceramente che andrò ad aprire Salvo casi particolari perché mi piace un sacco come appunto si può vedere benissimo la figura all'interno di queste confezioni E appunto avendo anche questo Gandalf loose non sento proprio il bisogno di aprire anche questo Comunque vi dicevo perché questo paragone Perché ragazzi la Toy Biz non ha rifiutato praticamente nulla in queste due figure Nonostante siano lo stesso personaggio sono figure totalmente diverse A cominciare dal fatto che questo qui ha la spada con fodero Questo qui non è presente il fodero Ma anche lo scalto di tutte le parti La gonna è diversa vedete ha due cinture Questa e questa ne ha solo una Lo scalto anche del viso è leggermente diverso O forse questo è lo stesso però il painting è diverso Ma per esempio anche il cappello ragazzi è totalmente diverso Il bastone anche ovviamente La Toy Biz veramente lavorava in una maniera incredibile Personaggi uguali stesso Personaggi appunto in due versioni diverse Con praticamente nessuna parte riciclata Veramente qualcosa di incredibile Altri tempi davvero E ora ragazzi la gimmick Ho abbassato un attimo la luminosità Allora premendo questa levetta vedete alza il braccio E poi preme il bastone verso terra Allora secondo me il bastone forse non lo so col tempo si deve essere un po' rammollito Secondo me doveva essere più rigido il bastone Quindi quando diciamo premeva verso il terreno Doveva piegarsi vedete il braccio in questo modo E attivare appunto la luminosità del bastone Che è questa qui Che è una figata E sono rimasto sorpreso che funzionasse ancora Perché molti di questi diciamo circuiti si rovinano col tempo Soprattutto se vengono lasciate le pile all'interno Che poi diciamo marciscono E quindi rovinano tutto il circuito Quindi è un miracolo che si accenda ancora Ed è una cosa fantastica questa gimmick Quindi secondo me il vero funzionamento doveva essere che Premendo la leva lui sbatteva il bastone a terra E con la rigidità del bastone avrebbe dovuto piegare il braccio E far accendere automaticamente la luce Vedete un po' fa fatica però comunque trovando la giusta posizione Si accende correttamente Ecco qua E allora la mia recensione di questo Gandalf Toy Beads Finisce qui Fatemi sapere cosa ne pensate di questa figure con un commento qui sotto Lasciate i like se questo video vi è piaciuto Fatemi sapere se continuano a piacervi queste recensioni dedicate al signore degli anelli Noi ci vediamo alla prossima Grazie a tutti per la visione Se volete acquistare action figure un po' più recenti C'è il mio sito Aras e Visual Shop nella scheda in alto pure qui sotto in descrizione Ciao da Arada, Gandalf, il grigio e collezionate sempre Grazie a tutti per aver hunting the same Break